Ciao a tutti, in questo video ti voglio parlare della magia sessuale. Allora, prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo alla magia sessuale. Allora, la magia sessuale diciamo che intanto nessuna forma di magia è veramente tale senza una componente sessuale, perché la componente sessuale è fondamentale nella magia perché produce, diciamo, produce coinvolgimento. Quindi la magia sessuale è, per così dire, fondamentale nelle pratiche magiche. Prima di affrontare però il tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo alla magia sessuale. La magia sessuale si sovrappone, diciamo, con un'altra branca che, se vogliamo, è la mistica sessuale. Magia sessuale, diciamo, magia sessuale e mistica sessuale si basano sulla stessa polarità e fanno parte, diciamo, delle discipline esoteriche, anche se poi, tutto sommato, vi sono delle differenze anche abbastanza sostanziali. La magia sessuale può essere altamente polarizzata ed utilizzata nel misticismo e anche l'inverso è molto importante. Diciamo che il rischio della magia sessuale, come anche della mistica sessuale, è un po', diciamo, il rischio dello sviluppo spirituale dell'ego. L'ego può essere, diciamo, bloccato dal, diciamo, dal lasciarsi andare alla sessualità. Il mistico, diciamo, parte dal suo desiderio soggettivo, diciamo, di un approfondimento, di un spirituale verso ciò che è importante e quindi utilizza, ad esempio, l'astinenza sessuale come una forte, diciamo, modalità per andare verso la spiritualità. L'esoterista, diciamo, che utilizza i chakra, invece, utilizza proprio l'utilizzo specifico dei chakra per ottenere dei risultati e i chakra possono essere attivati solamente attivando il chakra basico, che è quello collegato all'istinto sessuale. Sebbene l'istinto sessuale come l'istinto mistico, diciamo, traggono origine da un'unica fonte, una negazione degli impulsi sessuali talvolta genera problematiche se non vengono, se non viene sviluppato nel modo migliore. E quindi questa è un po' la differenza tra mistica e magia sessuale, perché la magia sessuale utilizza attivamente la magia, utilizza attivamente la sessualità nelle pratiche magiche, mentre la mistica sessuale utilizza fondamentalmente, come dire, l'astinenza dalla sessualità. Ovviamente anche nella magia sessuale bisogna utilizzare al meglio la sessualità, perché un'attività sessuale, ad esempio, sregolata, troppo forte, genera, diciamo, un non controllo. La pratica magica deve utilizzare l'energia sessuale caricando prima di desiderio. Quindi, se vogliamo, mistica sessuale e magia sessuale sono fondamentali. La mistica sessuale, diciamo, rifiuta di praticare l'attività sessuale organica, quindi respinge l'atto sessuale per canalizzare l'energia che ne viene di conseguenza su alcuni obiettivi. E questa è una pratica già molto antica. Alcune delle prime sette gnostiche praticavano quindi questa pratica dell'utilizzo della sessualità da questo punto di vista. E invece la sessualità utilizza, la magia sessuale utilizza l'atto sessuale come attributo magico, ma veniva praticato a livello simbolico, come a livello di culto religioso. L'obiettivo di entrambe queste discipline, diciamo, che utilizzano la sessualità per la magia è quella di utilizzare questa energia, quella della magia, della sessualità, per canalizzarla su un obiettivo magico. Quindi la realizzazione di qualcosa. Quindi la cosa fondamentale è che nella magia la sessualità non è un fine. Cioè le persone non fanno sesso o non utilizzano, o evitano di fare sesso per stimolare, per stimolare il desiderio. Ma la sessualità viene utilizzata come una delle forme più elevate di energia umana e quindi l'attrazione erotica, se vogliamo, è quella che serve per sviluppare questa forma di energia e poi può essere canalizzata sulla persona che interessa, insomma, sull'obiettivo che interessa. Quindi questo è l'utilizzo fondamentale di queste pratiche. Ovviamente vanno utilizzate nel modo corretto. Quindi nella mistica sessuale si utilizza l'energia sessuale. È sempre magia sessuale perché si utilizza la negazione della sessualità e questa energia che viene prodotta viene dedicata attraverso un rituale, diciamo, al raggiungimento di un obiettivo. Quindi diventa intenzione per raggiungere un obiettivo. È una sorta di voto, possibilmente, praticamente, che viene fatto, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo. Quindi il rito serve per caricare il rito, serve per caricare un talismano, serve per caricare un oggetto. Mentre la magia sessuale, invece, in generale viene utilizzata, viene utilizzata la sessualità. Quindi viene praticato sesso, ma mentre si raggiunge il momento del piacere, il sesso diventa la scena di un rituale. Anziché il rituale è proprio la sessualità e quindi l'energia del momento orgasmica viene canalizzata su un obiettivo che si vuole raggiungere. Quindi viene utilizzata in modo più semplice, vuoi conquistare una persona, fai l'amore con un'altra, per dire, nel momento in cui provi il massimo del piacere, canalizzi e mandi un messaggio all'universo, una richiesta all'universo per ottenere la persona che ti interessa. Quindi utilizzi la sessualità, in questo caso il piacere sessuale, come forma di rituale per ottenere quello che desidera. Queste sono due modalità diverse, sempre appartenenti alla magia sessuale, ma che utilizzano due forme diverse, ma entrambe valide. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco. Iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare ad Opposite Live, dove ti darò delle risposte precise alle tue domande. Ciao a tutti.